A fine del giorno è stata tutta qua. Che è successo a Pietro? Tagite che è tutto a posto, padrino. Viene un nome! Viaggia a sapere. Tu mi li hai portare da viva? Ora morì a P6. Senza vostro padre Secondigliani ci cambia come una bomba orologeria. Non sai come si dice, malamu? Convincere prima o poi diventare peggio nemico del re. C'è no. Ciro di Marzia. Non si sa più niente. Oh, fru. Dove ci fai andare su questo posto in merda? Non ti so, frate. Sei mortale Secondigliani, eh? L'immortale è morto. Quello che è successo in tuo quartiere ci ha imparato una cosa sola. Non si sa più niente. Tu hai ricevuto quattro morti di fama, ma non abbiamo paura di niente di nessuno. Vieni con noi. Non è stato trinta in mano mia. E mi serve l'aiuto tua, Patrisi, non c'è una guerra. Se mi ha imparato una cosa è che proprio la famiglia mia non mi può sfidare. Ho cercato pure la mia figlia. Sono scusa all'inferno per capire. E ora che capisci? Come metti a fare la campanella a tutti? La prima cosa che hai da capire è chi sono i miei amici e chi sono le mie amici. Gendarino non prende a chiunque. Sono stancato, ma ci fatti dietro i padri. Io non voglio stacchi sotto a loro. Mi ha deciso di dire subito che io vado la tua. La città ci ha mazgata e ci ha sputato. Che se ne chiude a casa nostra c'è lui. Dopo tutto quello che ci ha fatto in Samagorca sono io e te.